Ecco, tutti hanno il loro pallone, che sono i più piccolini, 5-6 anni, proprio alle prime armi. In centro ci sono i genitori che assistono, i genitori nonni che assistono agli annunamenti dei propri figli e nipoti. I misteri sono attenti perché i giù piccoli possono portare più a farsi male, devono essere seguiti sempre con occhio vigile. Brava, vai! Vai Luca! Non c'è, è l'altro piccolo dentro! Grazie! Grazie! Garita! Sono in un ambiente comportevole, la struttura polivalente coperta, detta comunemente il pallone, dove i più piccoli possono allenarsi ed evitare il freddo dell'esterno, anche in inverno i piccolini che sono soggetti ad essere più infreddoliti, qui hanno un ambiente accogliente, anche riscaldato, le bocche le fuoriuscite d'aria condizionata, aria calda, comunque si devono abituare pure a giocare fuori, anzi io sono dell'avviso che si devono abituare a giocare fuori, oppure anche se fa freddo basta che si coprono, che si coprono bene il petto, i guanti, anche il scaldacollo, il cappellino, ma da evitare la tuta o le calze maglie che non servono a niente, anche se stanno a gambe nude non fa niente, basta che sono coperti, c'è quel detto che dice uno più si copre e più si ammala, il mister Nicola sta raccogliendo i palloni, siamo quasi al termine degli allenamenti dei piccoli, qui abbiamo mister Giuseppe degli esordienti, ok, grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti